Buongiorno e benvenuti. Un cordiale saluto agli amici di Italia Camp, a Pierluigi Celli, Presidente della Fondazione Italia Camp, a Fabrizio San Marco, Presidente dell'Associazione Italia Camp, a Maria Ludovica Giovanardi, coordinatrice di Italia Camp in Emilia Romagna e a tutti gli altri partecipanti, ad Advocacy Italia, Valore Paese e all'Assemblea Generale di Italia Camp che la nostra città ospita in questi giorni con grande piacere, con particolare attenzione e interesse. Un saluto particolare al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dottor Mauro Bonaretti, e in particolar modo, permettetemi, un saluto speciale al Ministro Mogherini. Naturalmente il mio saluto si estende a tutti voi, alle autorità presenti, con un ringraziamento particolare per aver scelto Reggio Emilia per questo speciale evento. Credo che quello che in questi giorni di Italia Camp possiamo trasmettere con immediatezza alla nostra città sia un messaggio semplice ed efficace. Non avere paura di cambiare, quindi non avere paura di fare innovazione. Innovare non è un giudizio negativo sul passato, non è un elemento di conflittualità o di rottura con chi è venuto prima di noi. Innovare è uno sguardo intelligente, libero, sul presente e sul futuro, che può portare con sé quanto di virtuoso e utile viene dal passato, con la giusta consapevolezza, con la giusta responsabilità anche per chi è giovane nel guardare a ciò che viene davanti a noi. Basta volerlo, senza pregiudizi. Si tende a distinguere, a volte, in modo forse troppo rigido, fra innovazioni di vario tipo, tecnologica, culturale, di servizi, dell'economia, della pubblica amministrazione. Credo che l'innovazione oggi abbia bisogno, in prima battuta, di una lettura unitaria. Innovare è avere una nuova mentalità, una predisposizione alla persona, quindi un modo di essere e di esprimersi. Con questa lettura unitaria si possono proporre a tutti i temi dell'innovazione, rendendoli partecipati, condivisi, potremmo già dire anche democratici. I grandi cambiamenti, diceva l'impareggiabile filosofa Simone Weil, possono essere semplici e immediati. E ce lo insegnava il presidente Thomas Jefferson, se il sistema creato dalle idee si radica nella quotidianità, ovvero nasce democraticamente ed è in grado di rispondere ai bisogni di ogni giorno, allora si può innescare una crescita virtuosa e in campo sociale ciò può aiutare le persone a vivere meglio. Credo che la filosofia e il metodo di lavoro, fortemente partecipativo di Advocacy Italia e di Italia Campi in generale, stiano proprio in questo contesto. Semplicità, immediatezza, anche informale, concretezza nel far emergere in modo partecipato le buone idee, scegliere le migliori affinché diventino progetti risolutivi di problemi e possano in un qualche modo tradursi in politiche pubbliche e produrre in questo contesto sostanzialmente innovazione in campo sociale. I vostri incontri avvengono nelle città, quest'anno Reggio Emilia e vi siamo grati di questo. Anche questa scelta, le città, è un valore aggiunto perché le città sono innanzitutto il luogo dello scambio, del contatto, della partecipazione, dell'emersione delle idee e dell'elaborazione dei progetti, il luogo della creatività. Nel mondo oggi l'innovazione nasce e avviene nelle città, perché il cuore di una città sono le persone, sono le persone e la loro testa, sono le intelligenze che le abitano e che possano generare cambiamento, innovazione. Non sono solo le strutture, che pure sono importanti, ma hanno senso se sono al servizio di quelle idee, di quei progetti, di quelle persone. Se le strutture diventano cioè uno strumento al servizio delle persone, possono contribuire alla crescita del livello di civiltà, della polis. Confondere le strutture con le persone è un errore, che di solito si paga a caro prezzo. In Italia lo sappiamo bene, un errore strategico, che crea danni anche economici come spese e investimenti inutili e improduttivi. Per questo è importante investire sulle persone, sull'educazione, sulla cultura, sulla creatività innanzitutto. Per questo le persone sono il miglior destinatario di quell'investimento. Italia Camp è un fenomeno perfettamente umanistico, perché valorizza le persone, in particolar modo le persone giovani, i talenti, quelli che sono e hanno da proporre. Sono un amministratore pubblico della cosa pubblica e quindi permettetemi una valutazione sul pubblico, ma anche naturalmente sul privato in tema di innovazione. Perché noi viviamo un tempo in cui il pubblico si è trovata ad affrontare un contesto particolarmente nuovo, il contesto in cui dentro la crisi ha dovuto, come dire, stringere la cinghia e cominciare ad adoperarsi per creare condizioni di innovazione proprio a partire da un contesto di risorse più limitate. Tirare la cinghia in modo indifferenziato, invece, è drammaticamente miope e può portare all'implosione di una comunità nazionale o locale. Come sostiene fra l'altro l'economista dell'innovazione Mariana Mazzucato nel suo recente e apprezzato libro Lo Stato Innovatore, i Paesi che sono stati colpiti dalla crisi finanziaria in modo più pesante sono quelli che per decenni avevano trascurato di investire in aree fondamentali per la crescita economica, come la formazione del capitale umano, l'introduzione di nuove tecnologie, la ricerca e lo sviluppo sostenibile. In sostanza la crisi è stata pagata più a caro prezzo in quei Paesi, fra i quali l'Italia, che non hanno promosso e investito in innovazione, in tecnologia, in innovazione sociale, che hanno reciso in modo semplificante e conservatore il legame tra scienza, tecnologia e cultura umanistica, valore della persona, che hanno continuato ad interpretare in maniera sterile lo sviluppo e l'efficienza nella contrapposizione fra impresa privata, sinonimo di virtuosità e sistema pubblico, sinonimo di pesantezza, improduttività e inefficienza. Nessun Paese è mai cresciuto senza massicci investimenti in aree fondamentali come l'educazione, la ricerca, la formazione del capitale umano. Nessun Paese è mai cresciuto senza questo innesto fecondo, tra proposta partecipativa dal basso, spesso fonte di innovazioni anche inaspettate, e percezione e ricezione di tale proposta da parte dei decisori, in particolare i decisori pubblici. E qui c'è una breve considerazione che vorrei fare sul ruolo del decisore pubblico, perché un amministratore pubblico non è colui che si sveglia al mattino pensando di avere una buona idea e va in comune per attuarla. Certo, gli amministratori pubblici devono avere buone idee, devono avere anche l'ambizione di avere una visione strategica, anche illuminata, per certi versi anche un po' di sana follia, ma devono avere la capacità di connetterla ogni giorno con la propria comunità, di costruire ogni giorno una relazione con la propria comunità, una relazione virtuosa che sia in grado, in un certo qual modo, di far emergere le migliori energie, le migliori potenzialità, le migliori intelligenze. E i progetti migliori, i progetti più innovativi in campo sociale e nelle città, spesso e volentieri nascono dentro a questo contesto, cioè in un ecosistema urbano dinamico, virtuoso e dialogante. È necessaria quindi una visione nuova del settore pubblico, per fare in modo che non sia solo che sostenga l'innovazione, ma anche che sia innovativa all'interno, sia propositore, sia attore di innovazione. È indispensabile che gli investimenti per l'innovazione vengano riconosciuti come spesa in conto capitale, da distinguere da una spesa in conto corrente. È necessario trovare capitali pazienti e dunque investitori pazienti e coraggiosi, una finanza cioè impegnata a ragionare nel lungo periodo, sia essa una finanza pubblica o sia essa una finanza privata. Ed è necessario anche recuperare una cultura del capitale di rischio, per scommettere seriamente su ricerca e su innovazione. Le repubbliche marinari devono la loro antica prosperità al fatto che le istituzioni investivano sul rischio, cioè finanziavano la flotta e gli scambi commerciali fino alla Cina, quello che allora era, in certo qual modo, innovazione in assoluto. Investirono e diffusero le proprie risorse, crearono benessere diffuso, accrebbero la propria influenza internazionale, furono catalizzatrici di conoscenza, di scambi, grazie a una contaminazione di saperi e di civiltà. E quanto avviene oggi in Germania o in Cina, avviene cioè negli Stati più dinamici, con investimenti pubblico-privati intelligenti, di lungo termine, con fasce anche di alto rischio in termini di economia convenzionale di breve termine. È lo Stato, nelle economie più avanzate e in espansione, a farsi carico talvolta del rischio di investimento iniziale che innesca all'origine i processi innovativi, la generazione di nuove tecnologie. E si ha crescita, quindi lavoro e benessere, laddove oltre alle buone idee c'è la disponibilità di investimenti premianti e lungimiranti. La crescita in Italia e nel resto d'Europa avverrà solo quando guarderemo in modo nuovo alla dimensione pubblica, alla collaborazione pubblico-privato, oggi necessaria più che mai per innescare una crescita che sia intelligente, trainata dall'innovazione, inclusiva e sostenibile. L'agenda del sistema delle imprese deve avere, al pari dell'agenda politica e istituzionale, fra le proprie priorità, la dimensione anche pubblica dei propri progetti, dei propri obiettivi, una dimensione che potremmo definire di responsabilità e condivisione sociale, che ha l'aspirazione ad una sharing economy, ad un'economia della condivisione, che non sia solo e soltanto un'economia della conoscenza. Con la sola logica del profitto si rischia di affondare, ristretta nel solo profitto l'impresa privata è insufficiente. Pubblico e privato devono assumersi insieme i rischi della ricerca e poter goderne insieme dei benefici. Noi a Reggio Emilia, a partire dal 2008 abbiamo naturalmente incrociato un contesto economico e sociale difficile, quello che viene da tutti definito la crisi. Abbiamo cercato di reagire in più campi, mettendoci in discussione, cercando di produrre in più settori innovazione sociale. Lo abbiamo fatto nel campo dell'educazione, per esempio con il progetto della città educante, che ha in in qualche modo messo insieme il tema delle tecnologie con il tema dell'educazione, nell'ambito della costruzione di un cluster nazionale sull'innovazione tecnologica in questo settore. Lo abbiamo fatto con il patto sulla città educante, che ha coinvolto famiglie, insegnanti, genitori e soprattutto i ragazzi, per arrivare a condividere un progetto che ha consentito l'apertura di oltre 50 scuole in ambito extrascolastico, per sviluppare lì non solo progetti di tipo educativo, ma anche culturale, sportivo e quindi in un qualche modo produrre un'innovazione forte nel modo stesso di essere nella società in cui viviamo ogni giorno. Lo abbiamo fatto nell'Uelfar, in una città che storicamente nel Novecento si è sempre abituata ad avere uno schema di gioco, lo dico a chi viene da fuori Reggio, molto semplice, cioè a bisogno arrivava risposta, cioè arrivavano i servizi. Poi è arrivata la crisi, è arrivato il taglio delle risorse pubbliche e questo in un qualche modo ha imposto anche un approccio diverso, la ricerca di un patto con gli attori sociali, con la comunità, la ricerca di un approccio generativo di una ricchezza nuova emergente anche dal basso. E lo abbiamo fatto guardando al modello economico, cioè a quel modello economico che entrava dentro la crisi dopo aver sviluppato delle performance di grande livello nel Novecento, che aveva in sé elementi forti, dinamici, innovativi, ma che aveva anche delle filiere fortemente in difficoltà, fortemente indebolite. La Mediopadana, da un anno a questa parte, localizzata qui a Reggio Emilia, è per noi una grande opportunità per alterare la dimensione spazio-temporale del rapporto tra una città come la nostra e il mondo. Ma abbiamo sviluppato il Tecnopolo, abbiamo sviluppato il Fab Lab, abbiamo portato cioè avanti delle iniziative che nell'incrocio tra pubblico e privato avessero al centro l'innovazione, il trasferimento tecnologico, la ricerca e cioè la volontà di cominciare ad immaginare una visione diversa del modo in cui una città come Reggio Emilia, dentro un contesto di più area vasta, potesse immaginare e ripensare il proprio modello economico, per ricreare quelle condizioni di benessere diffuso, di qualità della vita, di coesione sociale che avevano storicamente contraddistinto questa città nel Novecento. E lo abbiamo fatto anche in altri settori, penso al tema dei beni comuni, alle politiche territoriali, cominciando in un qualche modo a cambiare l'indirizzo, a introdurre concetti come i limiti al consumo del suolo, come i limiti all'espansione. E lo abbiamo fatto soprattutto sul tema della legalità e della trasparenza, dove ogni giorno dobbiamo, io credo, ancora di più, continuare a tenere la guardia alta e voglio, da questo punto di vista, ringraziare per la sua presenza qui oggi il procuratore Nicola Gratteri. No, no, niente di grave, mi avvio alla conclusione. E questo modo, questo nostro modo, insomma, di operare ci consente di assumere il tema dell'innovazione come un elemento caratterizzante del nostro modo di essere, della nostra idea di città e del nostro modo di immaginare il futuro. Ho voluto dedicarmi pochi minuti alla nostra città, perché credo che nel modello di Advocacy Italia, nella volontà, cioè, di contribuire a un valore Paese, ci sia in un qualche modo una coerenza forte con il modo in cui noi abbiamo approcciato e stiamo approcciando, nel rapporto col privato, col privato profit, col privato sociale, la creazione di un valore città per il Paese, che abbia al centro i giovani, i talenti, il contatto col territorio e la comunità, ma soprattutto la concretezza nella soluzione dei problemi. I campi di azione innovativa, come si evince, sono dunque molteplici, sintonizzati tra di loro, come quelli che Italia Camp metterà in campo in queste giornate di lavoro. Io vorrei chiudere questo intervento dicendo che quello di oggi, a nostro avviso, non deve essere solo soltanto, come dire, un occasionale, quanto significativo momento di incontro, di scambio, di confronto, ma vorremmo che potesse essere, per una città come la nostra, e credo di interpretare da questo punto di vista il senso profondo della nostra comunità, un punto di partenza per proseguire anche nel futuro una costante collaborazione, un costante confronto sui temi che voi tratterete in questi giorni. Grazie e buon lavoro. Grazie.